I 72 milioni di euro delle periferie arriveranno, questa è la promessa del governo che però non ne facendo nel decreto mille proroghe. Secondo un'inchiesta del fatto sono 384 le scuole non sicure in regione, l'assessore Pizzimenti assicura gli interventi, ci saranno. Esercenti soddisfatti per i controlli in sborgo stazione, ma i cittadini non basta, la percezione di sicurezza è ancora poca. Favorire le imprese regionali negli appalti pubblici, questa è la mozione del patto per l'autonomia che imita le decisioni di Trento e Bolzano. Il difensore brasiliano Samir rinnova ed è pronto ad estendere ancora ulteriormente il suo contratto in bianco-nero. Buonasera, benvenuti all'appuntamento sterale con l'informazione di UD News TV come ogni giorno insieme a voi per raccontarvi tutto quello che è successo quest'oggi. Lo faremo fra poco anche in compagnia di Nicola Angeli. Buonasera Nicola. Buonasera Valentina. Prima spazio allo sport e allora a te. Buonasera Maurizio Ferrari. Buonasera Valentina, buonasera ai nostri telespettatori e ovviamente anche a Nicola Angeli. Andiamo subito con quella che è la notizia principale di questa sera perché è arrivato il rinnovo per Samir, difensore brasiliano che ha prolungato il suo contratto con la casacca bianco-nera pensando già ad un nuovo rinnovo, quindi a continuare a lungo con la formazione friulana, un segnale di attaccamento che andiamo a scoprire nell'intervista realizzata da Jacopo Romeo. Samir, rinnovo contrattuale fino al 2023, un bel momento per te perché hai la possibilità di confermarti come una delle colonne di questa Udinese e soprattutto anche tanta fiducia da parte della società nei tuoi confronti. Sì, felice per avere questa fiducia nella società, felice per rinnovare il mio contratto un'altra volta, quindi sono troppo contento e spero di dare tutto quello che posso dare in campo per aiutare sempre la società e spero di fare un altro rinnovo e rimanere qua con l'Udinese. Va bene? Forza, Udinese! Ciao ragazzi! Molto sorridente Samir per questo prolungamento fino al 2023, era anche lui in campo nella mattinata, nella seduta, che ha visto i bianconeri disimpegnarsi dalle 10.30, sempre per il fronte difensivo presente anche Kong, ha lavorato a parte Antonin Barak con lui, Molla Vagheci. Ci racconta tutto nel prossimo contributo Jacopo Romeo con il servizio del Centro Sportivo Dino Bruseschi. L'allenamento di metà settimana segna l'ingresso sul rettilineo finale della marcia d'avvicinamento verso la partita contro il Torino. Dopo aver lavorato in palestra, la squadra è uscita sui campi del Bruseschi, dove il gruppo si è diviso in tre tronconi su due terreni di gioco. Mister Velasquez si è concentrato sui movimenti della difesa, provandoli con il pacchetto e il retrato composto da Larsen e Kong, Noitink e Samir, più o poco. La notizia positiva è la conferma della piena reintegrazione del difensore nigeriano, dopo il problema muscolare che lo aveva frenato la scorsa settimana, costringendolo a dare forfea alla nazionale. Aumenta quindi la fiducia per un suo impiego contro il Torino. Contestualmente ha svolto un lavoro specifico sui passaggi un gruppetto di centrocampisti composto da Balic, Pontisso, Koulibaly e Fofanà. Parallelamente, sul campo tre, il resto della squadra, ai ordini del vice di Velasquez, Jimenez, ha svolto un lavoro mirato sulla finalizzazione. Dopo aver faticato con il resto della truppa nel pomeriggio di ieri, invece, Antonin Barak è tornato a farlo a parte, nell'ottica di un normale percorso di recupero dalle noie muscolari che l'hanno afflitto alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Lavoro individuale anche per Mollavaghe, rientrato un'altra notte dalla nazionale e bisognoso di recuperare dopo il lungo viaggio e gli impegni con il Mali. In giornata, invece, rientreranno alla base i tre convocati con l'Under 21, Scuffet, Pezzella e Mandragora. L'ultimo a far ritorno a Udine sarà invece Macis, che la scorsa notte è stato impegnato per la seconda e ultima amichevole con la maglia del Venezuela. Questo tutto ciò che riguarda il fronte della prima squadra, nella seconda parte parleremo di primavera con la presentazione della squadra e questa sera un appuntamento speciale dedicato con un Tonight alle 21. Lina che torna a voi. Grazie Maurizio. Allora, in apertura il bando per le periferie è ancora in bilico perché non rientreranno nelle mille proroghe in approvazione in questi giorni. I fondi sono 72 milioni di euro per la nostra regione, circa 30 per quel che riguarda Udine. Il governo però ha garantito che i fondi arriveranno, non subito, ma arriveranno soltanto per i nostri comuni. Dicevamo, tutti questi milioni di euro che arriveranno, si dice, entro tre anni. Ma sentiamo il servizio. Sul decreto mille proroghe con il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fracaro il governo ha posto la fiducia, la prima dal suo insediamento. Ad essere blindato il testo approvato dalle commissioni, vale a dire quello con il taglio da 1,1 miliardi alle periferie, senza recepire l'intesa raggiunta ieri con l'Anci per il ripristino nel triennio dei fondi. Un folto numero dei deputati del PD ha occupato l'aula della Camera in segno di protesta. Il premier Conte aveva trovato un compromesso con i primi cittadini sul piede di guerra, con la promessa di ripristinare in tre anni i fondi per i progetti già in fase avanzata, usando lo strumento del primo decreto utile. Soltanto per i comuni della nostra regione si tratta di circa 72 milioni di euro di investimenti. Noi siamo perfettamente allineati alla posizione dell'Anci nazionale e quindi al compromesso raggiunto ieri da parte della delegazione di Anci nazionale con il governo. Non è un compromesso ideale perché lì si dice che nel mille proroghe non si dà nulla, c'è l'impegno però ad emanare un altro decreto in modo che le risorse vengano stanziate di nuovo. Qui in figlio la situazione è preoccupante, conosco quella di Udine. Ad esempio Udine ha lavorato due anni per un piano di azione sia su una caserma dismessa da riusare, ad usi civici, sia il fatto di rigenerare una periferia urbana, un quartiere urbano. Quindi per un importo di 30 milioni il fatto di non avere a disposizione subito questi importi può rappresentare, può rappresentare una difficoltà importante. Quello che è di positivo è che c'è l'impegno del governo comunque a stanziare di nuovo questi fondi. Speriamo che mantengano le promesse perché in caso contrario tra Comuni e Parlamento e Governo nazionale nascerebbe un caso sbelli. E si dice fiducioso per lo sblocco dei fondi il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Non tutti in un'unica soluzione ma stato avanzamento lavori per i diversi progetti a partire da quelli già avviati, ha precisato. È stato siglato un accordo, si riferisce evidentemente a quello siglato dal governo con l'Anci. Dunque coloro che l'hanno stipulato si sentano impegnati a realizzarlo. Adesso parliamo di scuole, di edilizia scolastica per la precisione sarebbero oltre 6.800 le scuole da sistemare di cui 384 in regione. A riferirlo oggi è fatto quotidiano citando le richieste che sono arrivate al Ministero dell'Università e della Ricerca. Un altro quotidiano La Verità ha fornito l'elenco di una settantina di scuole nel territorio regionale che sarebbero considerate non a norma per il rischio sismologico. Sentiamo il servizio. Oltre 6.800 scuole da aggiustare in tutta Italia, 384 delle quali in Friuli, Venezia e Giulia. Circa 40.000 gli istituti nel paese che per più della metà sarebbero sprovvisti del certificato di agibilità, il documento che attesta le condizioni di sicurezza, per oltre un terzo del collaudo statico sulla stabilità delle strutture portanti e per quasi il 58% del certificato di prevenzione incendi. È la fotografia sulle scuole in sicure, citando il titolo del dossier, proposta dal Fatto Quotidiano che menziona le pratiche arrivate al MIUR e anticipa alcuni dati dell'anagrafe dell'edilizia scolastica. Nelle prossime settimane il Ministero pubblicherà i dati aggiornati. Online sarà possibile consultare le condizioni dei vari istituti. Sul sito del quotidiano La Verità, nei giorni scorsi, l'elenco di una settantina di scuole del Friuli Venezia e Giulia considerate non a norma contro il terremoto. Così commenta la situazione l'assessore regionale all'infrastruttura e al territorio, Graziano Pizzimenti. Stiamo monitorando tramite i comuni tutte le scuole che ci sono in Friuli Venezia e Giulia. La situazione non è certamente facile perché purtroppo ci sarebbero molti lavori da fare, specialmente in certe zone. Ci sono dei fondi che non saranno sufficienti per tutte le scuole, però almeno è partito il monitoraggio di tutto quello che riguarda lo stato di fatto della nostra regione. È chiaro che senza l'aiuto di fondi statali sarà difficile in tempi brevi a mettere a posto tutto. Alle famiglie rispetto a questa situazione quale messaggio diamo? Io dico di stare sereni, cioè nel senso che si cominci l'anno scolastico serenamente. Chiaro che stiamo valutando e vedendo se ci sono dei casi particolarmente preoccupanti, siamo pronti a intervenire. E il governo ha sbloccato dei fondi per quel che riguarda il vicino Veneto, Nicola? Ha sbloccato dei fondi per tutta l'edilizia scolastica. Qui parla su Ascanews di 7 miliardi messi a disposizione Valentina, ma quello che ci interessa è che il governo, contrariamente a qui che si sta vedendo, valutando come abbiamo sentito dalle dichiarazioni dell'assessore Pizzimenti, ha già pronto tutto. Che cosa dice il governatore Zaia in questo lancio di agenzia? Che il Veneto non si fa trovare impreparato. Ancora lo dice il 4 settembre. Quindi parliamo già di alcuni giorni fa antecedenti alle inchieste del Fatto Quotidiano e della Verità. Cosa dice? Il Veneto si è dotato da tempo di un'anagrafe regionale degli edifici scolastici, costituita, costruita in collaborazione con comuni, province e città metropolitano, ovviamente di Venezia. Ed è abituato a pianificare con piani triennali le priorità di intervento, attivando tutte le risorse disponibili, compresi i fondi della Banca Europea per gli investimenti. Quindi mentre qui si valuta, dall'altra parte del tagliamento è già tutto pronto per essere operativi. Anche se Zaia del resto è stato riconfermato, è già diversi anni che si siede a Venezia sulla sua poltrona di governatore regionale. Sì, qua ti volevo con il nome del palazzo della regione a Venezia, ma non me lo ricordo. Quindi nota di demerito per te. Andiamo avanti, parliamo invece di Udine e dei Borgo Stazione, perché ci sono stati dei controlli straordinari da parte della polizia, gli esercenti sono soddisfatti, ma in generale la percezione dei cittadini è ancora di scarsa sicurezza. Sentiamo le interviste. In questo periodo ci sono stati maggiori controlli da parte della polizia, ve ne siete accorti? Sì, ce ne siamo accorti e dobbiamo anche ringraziare, ci sentiamo più protetti. Ha visto le pattuglie? Sì, abbiamo visto tante pattuglie e tanti controlli, sì. Ci sentiamo più sicuri in questo momento. Abbiamo visto sicuramente uno sfollamento di questi ragazzi che bighellonavano qua sulla strada avanti e indietro. Ci sono ancora delle ore, delle ore che i ragazzi si fermano lì, sicuramente sono spacciatori, fanno quello, i ragazzi li vanno a cercare, eccetera. Non è mai successo niente in vent'anni, è che comunque non ci piace vedere queste scene. In genere, se devo essere sincera, non posso passeggiare tranquilla con mia figlia, perché non per essere razzista, perché non ho niente contro gli stranieri, però non è giusto che vedano una persona, specialmente una mamma, una ragazza, mamma, passare e devono subito fare apprezzamenti che sinceramente sono pure scomodi e fastidiosi. Non mi sembra il caso, sinceramente. Pur essere inseguita non posso neanche girare tranquillamente. Per fortuna io la sera sono a casa e di questi problemi non ne ho, perché se già di giorno fanno così non oso immaginare la sera. Non c'è gente che si ferma, bivaca sulla strada, cioè non hanno un atteggiamento molto civile, ecco, questa è la cosa che mi colpisce di più. Abbiamo visto la presenza dei poliziotti, però chiudere temporaneamente un locale e poi dopo riaprirlo non so che effetto possa avere. Come si trova a Borgostazione? Bene. Ha paura? No. Passo anche di sera, tante volte, basta insomma non aver paura se si vedono delle persone un po' diverse da noi. Ma a lei non è mai successo niente? Assolutamente. Sono molti anni che passo anche a ore tipo le 10, così. Passa di qua e non le piace? Non mi piace per niente, se sono sincera, né via Leopardi né questa via qua. Le è mai successo qualcosa? No, non mi è successo niente. Una volta un ragazzo diceva, oh che bella bicicletta che hai, no? Però me ne sono andata avanti e non mi sono fermata. E una delle denunce che abbiamo raccolto in questo servizio riguarda proprio il bivacco delle persone, il bighellonare. Abbiamo sentito e c'è un'ordinanza ad hoc, Nicola. Non ancora l'ordinanza, è stato dichiarato che verranno nel frattempo predisposti dei cartelli in italiano, friulano e inglese. Qui abbiamo l'aggiornamento da Udine Today che inviteranno a non bivaccare in determinate zone. In questo caso presumiamo che possono riguardare anche la zona di Via Leopardi che ha creato polemiche anche con la precedente amministrazione Onseli. Tanti ricorderanno il taglio delle aiuole. L'opposizione non perde l'occasione, ghiotta in questo caso, per ricordare la precedente esperienza con i cartelli, in questo caso in provincia, da parte del sindaco Fontanini, allora ai vertici di Palazzo Belgrado con i cartelli, diciamo, salvavita o che avrebbero dovuto contribuire a salvare vite. Vedete qua anche l'attuale sindaco di Codroipo, Fabio Marchetti, accanto alle sagome che fecero molte polemiche per il costo e Alessandro Venanzi dice Vonde Monadis, come ai tempi venne coniato lo slogan. A lui si unisce Enrico Bertossi, venanzi chiede quale sarà la spesa per questo tipo di cartelli anti-bivacco. A lui si unisce Enrico Bertossi di Prima Udine che dice che da parte di questa giunta c'è immobilismo su profughi, sicurezza e decoro. Siamo praticamente, dopo tanti proclami, alle condizioni pregiunta Fontanini. Parole d'ordine, prossimità e sicurezza per il nuovo comandante provinciale dell'arma dei Carabinieri, Alfredo Vacca, al debutto oggi insieme ai suoi nuovi colleghi, Romolo Mastroli ha chiamato a guidare la compagnia di Udine e Rossella Pozzebon è destinata invece a quella di Cividale. Sicuramente la prossimità al cittadino ha sempre caratterizzato quella che è l'azione dell'arma e nel suo contacciato dal mio predecessore continueremo a perseguire la vicinanza alla cittadinanza e la collaborazione massima con quelle che sono le autorità locali e tutti coloro che a noi si dovessero rivolgere. La provincia di Udine può contare sulla presenza di sei comandi di compagnia e 53 comandi di stazione. Lei è una prima volta in Friuli ma qualcosa del Friuli conosce già come per esempio la Dacia Arena? Ah sì sì, prima volta in Friuli ma in Friuli qualche volta per altri motivi di lavoro in quanto precedenti incarichi ero passato qui in Friuli per lo stadio. Da pochi giorni al comando della compagnia Carabinieri di Udine, una realtà molto impegnativa che comprende diverse realtà e che ci permetterà di affrontare quelle che sono le nostre incombenze tipiche istituzionali offrendo quello che è il servizio tipico dei Carabinieri, ovvero la prossimità nei confronti del cittadino al fine di garantire standard di ordine e sicurezza pubblico. Dalla provincia di Trento è stato il mio primo incarico, quattro anni fa il primo incarico operativo diciamo. L'esperienza invece di servizio più recente è alla scuola maresciale di Firenze. Quindi diciamo che nella mia breve carriera ho avuto modo di diversificare un po' le esperienze. Quindi sicuramente è un ruolo di responsabilità che vale, un ruolo di comandante di compagnia vale per un uomo come per una donna ed è un ruolo che cercherò di affrontare consapevole di questa possibilità di un raggio d'azione più ampio e di una prospettiva più ampia. Ancora aggiornamenti di cronaca. Sì, ancora febbre del Nilo, l'Ansa del Friuli Venezia Giulia fa un bilancio parziale di quanti sono i casi nel Pordenonese che sappiamo essere una zona colpita anche in maniera particolare e soggetta alle disinfestazioni in questi giorni, in particolare nella zona di Sesto al Reghena. Sono in totale 34 i casi di contagio nel Pordenonese. Appunto proseguono le disinfestazioni in vari comuni. Qua vengono menzionati Pasiani di Pordenone, Cordenons, San Quirino e Brugnera. Quindi quella che è la fascia, diciamo, dalla città e che si sposta verso la bassa, verso il Veneto. Emergenza abitativa in Friuli Venezia Giulia. Oltre 970 sfratti nel 2017. L'allarme della CISL e del SICET, il sindacato degli inquilini, è urgente. Programmare un incontro con l'assessore Pizzimenti. E' emergenza abitativa in Friuli Venezia Giulia. Nel 2017 sono ben 978 gli sfratti in regione, per lo più imputabili amorosità. A lanciare l'allarme sulla base dei dati forniti dal Ministero degli Interni è la CISLE, che insieme al SICET, il sindacato degli inquilini, sottolinea il fortissimo disagio, trainato dalla disuguaglianza economica, che oramai non colpisce più solo le grandi città, ma anche i centri medi e piccoli. Ad aggravare la situazione la consapevolezza che numerose province, tra cui Udine, hanno fornito dati incompleti. Urgente dichiara la CISLE un incontro con l'assessore Pizzimenti per analizzare la situazione, alla luce del disegno di legge della Giunta, che punta a modificare la riforma delle politiche abitative, portando in primo luogo da 2 a 5 gli anni minimi di residenza in regione, per accedere ai contributi di edilizia agevolata, ricevere un bonus per l'affitto e acquisire il diritto a occupare un alloggio ATER. Pur non mancando in regione buone pratiche come l'housing sociale, è tempo di dar forza a provvedimenti orientati al recupero e riuso, ai fini abitativi del patrimonio immobiliare pubblico e privato, in modo da aumentare l'offerta di alloggi a canone sociale. Al quadro si aggiunge poi la recente circolare ministeriale, che prevede la stretta sulle occupazioni abusive degli immobili, e segnala anche la necessità, a fronte della difficoltà di accertare le singole situazioni, di un censimento degli occupanti per misurare le ricadute sul piano sociale e su quello della sicurezza pubblica derivanti dalle esecuzioni dello sgombero. Torniamo sul web con altre notizie. Sì, Valentina, due notizie di cronaca. Una da Lignano Sabbiadoro, un turista austriaco di 56 anni, accusato un malore in acqua che si è rivelato letale. A nulla sono valsi i soccorsi dello staff medico giunto sul posto e non è rimasto altro che constatare il decesso del turista. Mentre se ci spostiamo un po' più in su, a Porpetto, c'è una donna che è stata arrestata per avere compiuto un furto di monili, in oro, gioielli, del valore di 2850 euro. Così è stato quantificato. I carabinieri della stazione di Cervignano l'hanno scoperta mentre cercava di vendere tutto quello che aveva recuperato dall'attività di furto a un comproro di Gorizia e quindi è finita male la sua impresa in questo senso. Usare la specialità per tutelare le aziende del territorio negli appalti sui lavori pubblici come hanno fatto le province di Trento e Bozzano. Questo chiede la mozione indirizzata alla giunta regionale del gruppo consigliare del patto per l'autonomia formato da Giampaolo Bidoli del capogruppo Massimo Moretuzzo. Crediamo che sia indispensabile sbloccare le risorse pubbliche che oggi giacciono nelle casse dei comuni, delle UTI e della regione stessa perché si fa fatica a far partire delle gare di appalto. Sappiamo anche che molto spesso a queste gare di appalto partecipano imprese che nulla hanno a che fare con il nostro territorio che arrivano da regioni lontane con dei costi e un livello di efficienza e di efficacia degli interventi assolutamente non sufficienti. Crediamo sia invece indispensabile trovare le forme per tutelare nelle gare di appalto proprio il nostro tessuto di imprese in particolare le piccole e medie imprese del settore dell'edilizia della regione Frivenzia Giulia che devono avere in qualche modo un canale privilegiato per partecipare agli appalti. La proposta è quella di copiare da chi sa far meglio le cose di noi e quindi capire cosa hanno fatto ad esempio le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno fatto delle norme provinciali che vanno in questa direzione, hanno fatto una norma di attuazione d'accordo con lo Stato per lo statuto di autonomia che è uguale al nostro in termini di lavori pubblici e dicono chiaramente che ci vuole un sostegno privilegiato alle imprese di Trento e di Bolzano. Noi chiediamo di fare la stessa cosa. La mozione chiede alla giunta regionale di attivarsi perché venga approvata una norma di attuazione dello statuto di specialità e quindi impegna in qualche modo la giunta a dire alla commissione paritetica che sarà presto nominata a lavorare in questa direzione e quindi a lavorare in una trattativa con lo Stato per portare a compimento appunto una norma di attuazione che sancisca quanto viene richiesto all'interno della mozione. domani l'inaugurazione ufficiale di Friuli Doc un'edizione che metterà in vetrina anche le eccellenze enologiche del territorio se molte persone hanno un approccio virtuoso per così dire con il consumo di sostanze alcoliche molte invece sono quelle che hanno sviluppato una dipendenza dall'alcol come conferma l'ACAT Udinese l'associazione club alcolisti in trattamento oltre 330 le famiglie che nella provincia stanno seguendo gli incontri in una cinquantina di club diversi problematica alcolismo nel territorio provinciale qual è la situazione? negli ultimi due anni diciamo che vediamo un leggero aumento l'unica difficoltà è che tutti quelli che hanno bisogno non si rivolgono a noi o perlomeno lo fanno quando la situazione è ormai critica sul territorio noi abbiamo attivi 48 club abbiamo una media di 7 famiglie 7 famiglie, 8 club, qualche club ne ha di più qualcuno di meno di tutte le età e di tutte le etnie le problematiche sono diventate alcol correlate e complesse non è solo alcol ma c'è alcol e rispetto all'abuso di alcol da parte dei giovanissimi le percezioni avete? che purtroppo ce ne sono tanti abbiamo provato a parlare nelle scuole sono interessati infatti stiamo cercando di organizzare dei ragazzi che parlino ad altri ragazzi anche da voi ci sono tanti giovani? i giovanissimi vengono seguiti dal dipartimento difficilmente entrano nei club anche perché le famiglie non riescono ad accettare che un ragazzo a 18 anni possa essere un alcolista nei club troviamo persone che vanno dai 30 ai 70 anni uno era operativo anche al centro dell'immacolata adesso da un mese non è più possibile operare là per una serie di questioni interne cosa è successo e qual è l'appello rilanciato anche in merito a questa situazione? allora cosa è successo? non sta a me dirlo diciamo che ci sono situazioni spiacevoli in corso la cosa che più fa male è che quando quel club è stato aperto 32 anni fa è stato aperto per accogliere gli ultimi degli ultimi quelli rifiutati sia dalla famiglia della società e in questi anni quel club ha dimostrato che con un lavoro capillare la gran parte di queste persone ha riconquistato lavoro fiducia e famiglia si spera di poter continuare ma il vostro messaggio è dunque uscire dalla dipendenza dell'alcol si può? sì se c'è la volontà si può è tutto per la parte di cronaca la linea ritorna allo sport a te di nuovo Maurizio sì e torniamo a parlare di Udinese con i giovani con la formazione di mister Sassarini che quest'oggi è scesa in campo ma in sala stampa per presentarsi alle 17 ve l'abbiamo mostrato in diretta adesso vi proponiamo un estratto delle parole del responsabile dell'area tecnica Daniele Pradè e proprio del tecnico carichi in vista della nuova stagione di Primavera 1 tanti anni che faccio calcio è la prima volta che presento la Primavera e mi fa piacere questo mi fa piacere perché significa che l'Udinese ha grandi aspettative con loro già ho parlato ho parlato quando sono arrivati in ritiro perciò vi ripeto quello che praticamente gli ho detto quello che cerchiamo noi è prima di tutto educazione cultura sacrificio lavoro crescita comportamenti lealtà partiamo da questo poi dopo arriva tutto il resto quello che mi piacerebbe personalmente essere fortunato come lo sono stato negli anni passati perché quando iniziavo i discorsi alla Primavera davanti avevo gli Aquilani i De Rossi e ultimamente i Chiesa i Bernardeschi ecco ragazzi datevi da fare speriamo che che riusciamo a fare qualcosa di importante insieme la sensazione è molto positiva ho visto una squadra che si è preparata molto bene in ritiro e quello che che noto del primo anno che mi accade in modo così importante che questi ragazzi sentono la maglia addosso ed è probabilmente il sintomo di un percorso fatto da più anni e questo mi ha colpito perché in tutti gli allenamenti che abbiamo fatto c'è stata grande coesione grande voglia grande determinazione quindi siamo pronti a iniziare la stagione a correre e sudare molto la formazione primavera fin dal debutto sabato alle 15 contro l'Empoli ne parleremo anche questa sera con l'Udinese Tonight speciale primavera dalle 21 dovranno correre tanto anche i partecipanti alla maratonina udinese che tornerà al passato partendo dal centro cittadino al servizio di Alice Mattelloni al via una nuova edizione della maratonina di Udine un evento che da 19 anni riunisce atleti appassionati della disciplina podistica tante le iniziative collaterali che si terranno sabato 22 e domenica 23 settembre volte a far vivere la città e a coinvolgere tutte le fasce d'età con un fine sportivo ma soprattutto educativo ma la più grande novità di quest'anno è il ritorno alle origini con la partenza dal centro cittadino sì un ritorno in città completo perché si arrivava a Udine si partiva da Cividale città che ha lasciato in noi dei bei ricordi Cividale e Remanzaco che ringraziamo per la collaborazione che ci hanno dato ma abbiamo voluto innovare su richiesta di molti partecipanti che ci hanno fatto arrivare il messaggio di ripresentare un percorso nuovo l'abbiamo pensato grazie a molti nostri appassionati e a partecipanti alla nostra associazione che si sono impegnati nel corso degli scorsi mesi nel disegnare un percorso che tenga conto di due caratteristiche essere tutto in città essere performante veloce e valorizzare anche le bellezze del nostro centro storico Udine deve tornare a rivivere Udine deve essere il centro diciamo così di un polo non solo attrattivo dal punto di vista culturale e estetico ma anche di sport anche di dialogo anche di partecipazione e quant'altro come sempre presenti i grandi campioni testimonial dell'edizione 2018 sarà Ruggero Pertile vincitore della maratonina 2014 atleta che ha vestito più volte la maglia azzurra partecipando a due olimpiadi si ci fa piacere che Ruggero Pertile che è stato l'unico italiano che ha vinto le 18 una delle 18 edizioni precedenti abbia scelto Udine per tornare da noi fa piacere sarà un nostro testimonial come ci fa piacere la Dossena a livello femminile è un'atleta importante promettente della nostra nazionale quindi speriamo che anche lei possa avere un buon risultato è tutto per la pagina sportiva di questa sera linea che torna a voi grazie Maurizio lo sport però non si ferma perché fra poco andrà in onda un nuovo appuntamento con Accadde Oggi di Guido Gomirato noi vi ringraziamo per averci seguito grazie Nicolangeli per il supporto grazie Valentina e vi auguriamo una buona serata su DNews TV il 12 settembre del 1951 nasce a Spoletti Angelo Orazzi Angelo Orazzi è stato un buon calciatore avrebbe potuto diventare un grande calciatore se non fosse stato vittima di numerosi infortuni uno dei quali molto grave nel 1974 che gli chiuse la strada per partecipare ai mondiali in Germania Orazzi si mise in evidenza nel Verona soprattutto nella Roma poi dopo una serie di infortuni girò altre squadre finì al Catanzaro Catanzaro da dove l'Udinese nel 1981 estate del 1981 lo acquistò e Orazzi in due stagioni contribuì e come alla crescita al riscatto del calcio bianconero che nel 80-81 si salvò per il rotto della cuffia dalla retrocessione la sua stagione migliore fu sicuramente quella 81-82 segnò anche tre gol tre gol pesanti col Como col Bologna ancora col Como ma io ricordo in particolare il grande gol segnato da Orazzi nella stagione successiva con l'Udinese che si classificò al sesto posto nella trasferta di Genova contro il Rosso Blu fu lui a segnare una rete meravigliosa un pallonetto dopo una rispinta del portiere del Grifone con il pallone che si insacò sfiorando la base della traversa poi Orazzi fu ceduto ormai era arrivato agli sgoccioli della carriera iniziò anche un'altra professione quella dell'allenatore ma con scarsa fortuna non andò oltre la Serie B sovente ha diretto formazioni di serie inferiore serie C C2 e chiuse la sua carriera di tecnico alla guida dell'Odigiani di serie C di serie C